Dove stai andato? Stai dietro ai carri armati! Per il nostro verso, ritriamo! Per il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info Per il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Per il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Per il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Prima che colpisca nuova colonna Grazie per la visione Come on, come on! 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 Sertente, lascia incarri i mitraglieri alla finestra! Come on! Come on! Come on! Sertente, lasciamo far fuori quei Panzer Shrek prima che colpiscano di nuovo la colonna! Sertente, lasciamo far fuori quei Panzer Shrek prima che colpiscano di nuovo la colonna! Sertente! Sertente, lascia inarca,Flacht te cese la positions- Grazie! Sì! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.